Luca Mantovani, Paolo Breda Bulgerini, Fabio Mugnaini ed Elisabetta Vuocolo dal Falstaff di Giuseppe Verdi a conclusione di questo bel pomeriggio musicale Reverenza al pianoforte Claudio Piani Siamo pentiti e contriti L'uomo ritorna al vizio, la gatta all'ardo E noi torniamo al suo servizio C'è una donna che alla vostra presenza Che deve essere ammessa sino al treno Reverenza Buongiorno, buona donna Reverenza Se vostra grazia vuole Vorrei che sicuramente Dite quattro parole D'accordo vienzo Escite Reverenza Ma donna lì c'è forza E me Povera donna Siete un grazie dottore Lo so, continua Ma donna Da lì c'è sta in grande agitazione D'amor per cuore Vi dice che nella vostra lettera Che mi ringrazia Che il suo marito esce sempre Dalle due alle tre Dalle due alle tre Vostra grazia Vostra grazia Quell'ora Potrà liberamente Salirò Salirò E dimora La malunce Povera donna L'andosce su E son crudeli Un marito geloso Dalle due alle tre Le dirai che impaziente Aspetto quell'ora Al mio dover Non mancherà Ben detto Ma c'è un'altra ambasciata Per nostra grazia Parla La bella A me Un'angelo Che innamora Guardarla Anch'essa Mi salura L'argo Rosa Che Dice che il suo marito E assai Di rado Assente Povera donna Un cielo Un cielo Di cantori Di sve Voi le stregate tutte Stregole mia Non c'è Ma un certo Qual mio fascino Personal Dimmi Dimmi L'altro Sa Di quell'altro Fai qua La donna Lasce Scantra Non temete Porti Morre Volerà Chi serve La grazia L'accoglie Amor Renni Mercurio Femmina Saluto Alle Due Dame M'inchino Amo Amo Amor Asine Amor Grazie. 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 Grazie.